Ben trovati da Nikos di Trebi Meteo, nei prossimi giorni l'anticiclone non sarà mai domo. Dura a morire, guardate come nel fine settimana i massimi rimarranno proprio tra Europa centrale e le nostre regioni. A parte l'estremo sud che vedrà qualche nuvoletta di passaggio ma senza effetti, altrove. Cieli sereni o poco nuvolosi, piogge atlantiche a chilometri e chilometri di distanza ancora in aperto atlantico. Andiamo a vedere di fatti quello che succede con la mappa della nuvolosità, cieli sereni o poco nuvolosi ovunque, un po' di variabilità solo sulla drossale appenninica meridionale. L'ultima grafica ci conferma una giornata non solo di bel tempo ma guardate nel riquadro le temperature addirittura tra Toscana e Lazio, valori fino a 15-17 gradi, valori più dal sapore primaverile che davvero inverno. Dettagli maggiori sull'app gratuita di Trebi Meteo.